Paolo, ho posto di pubblicare le foto su Instagram, storie, cazzi e mazzi. Se magari ti muove ad arrivare, andiamo a mangiare che ho fame. Come la vedi? Brutto? Ancora con questa cosa! No Paolo, tu non farei male. Angela, guarda che fine che ho fatto fare. Ha già bevuto. Ha fatto bene, si beccato. Ma secondo voi deve cambiare i capelli questo ragazzo? Paolo, tu cosa dici? Camì, cosa dici tu? Come la vedi? Ragazzi, aiutatemi, per favore, anche voi, almeno voi, me lo lasciate la chioma. Ma no, ma falla con me, cazzo. No, ragazzi, qua è da cambiare il parrucchino, perché l'89% ha detto che è da cambiare. Nome e cognome su Instagram? No, così come provino. No, mi chiamo di un senso a 25 anni e spero davvero di... Pezzi di merda, guardalo Paolone. Angela, ha fatto il bravo. Sta messaggiano con Angela. Angela ha fatto il bravo. Lore, Lore, sta messaggiano con Angela. Paolo. E' un dietro del quinto qua, o questa è la prossima settimana? Diego, eh? Cazzo, bel ragazzo, bel ragazzo Camillo, eh? Roba da 600.000 follower questo viso qua. Ma basta di queste cose! Basta! Basta! Ragazzi, è arrivato il personaggio più discutibile di tutta la serata. Signore, l'uomo che non ha età. Allora, è la seconda volta che facciamo una storia perché non posso dire quello che penso. Allora ragazzi, noi sappiamo un sondaggio sui cappelli del barda. Guardate il cappello preciso del barda. Allora, la storia dopo facciamo un sondaggio, io inquadro un attimo Bardella e ci direi qualcosa. Il barda fresco di parrucchiere. Ragazzi, secondo voi Diego deve cambiare il parrucchiere o il parrucchino? Raga, ma per parcheggiare una macchina quanto ci stiamo mettendo? No. Ragazzi, l'eroe, l'eroe, il nuovo eroe, gli uomini e le donne. Ma andate a cagare. Andate a cagare. Eccolo un ballone. Il coglione. No. Sei benissimo per una scelta, oh.